La Team, società che gestirà unicamente la raccolta dei rifiuti in provincia di Teramo? Per il sindaco del capoluogo la risposta è scontata, sì. La prossima settimana incontrerò il sindaco Francesco Mastromauro, a quale ho chiesto un incontro, perché l'obiettivo qual è? E questa è la carta vincente, se ci crediamo, che se tutti i comuni dell'Interland Teramano, o comunque i comuni più grandi, o la maggior parte dei comuni, partecipa ad un progetto di questo genere, mettendo insieme anche le tecnologie, e mi riferisco alla piattaforma per l'indifferenzato del comune di Teramo, che ha il comune di Teramo, il compostaggio che ha il CIRSU, insieme alla discarica e insieme al biodigestore, questo territorio, se riesce a ragionare in maniera collegiale, collettiva, sistematica, riesce a raggiungere il risultato che è quello della riduzione della tariffa dei suoi rifiuti. Questo è l'obiettivo. Questo passa attraverso una società totalmente pubblica, con la ricerca del gestore unico. Tutti i comuni di questo ambito devono ricercare il gestore unico, cioè quella struttura che farà i servizi per tutti, come dice Francesco Mastromauro, che il gestore unico è quello che fa i servizi per il suo comune. Allora noi la Teramo di gestore unico ce l'abbiamo da 15 anni. L'invito all'incontro viene raccolto dal sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ma ci sono dei distinguo. Io spero che Brucchi mi voglia incontrare per parlare delle sinergie che bisogna attivare in un'area vasta, che è quella della provincia di Teramo. Se poi Brucchi finalmente viene sul mio terreno, io sono felice, perché un sindaco, un amministratore deve pensare solo alla soluzione dei problemi. Se lei mi dice che mi vuole incontrare sul gestore unico, non comprendo però, perché l'unico comune che ha espletato la gara per il gestore unico europeo è Giulianova, che dal 1 aprile entrerà in funzione. Se vuole da me un consiglio su come farla anche a Teramo, posso dare anche l'esperienza e la competenza. Se poi invece vuole parlare del ruolo della comune di Giulianova all'interno del CIRSU e quindi del consorzio CIRSU, che è l'unico polo tecnologico della regione Abruzzo pubblico, sono felice perché è da tempo che su questo io e gli altri colleghi stiamo lavorando.